In Turchia abbiamo perso perché quel campo faceva schifo. Siamo usciti dalla Coppa perché non ci hanno dato un rigore nettissimo. Siamo usciti perché poi il nostro girone non era così facile alla fine. Il tifoso della Juve che non ammette l'uscita dalla Champions è una persona poco sportiva. Non restare indifferente e manda un sms con su scritto E' lo savorito che va beh! Al 4545 aiutaci a sostenere questa nostra campagna. Grazie per la visione!